Siamo con Massimo Gomez, arbitro internazionale di pallannuoto, arbitro che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Rio 2016. Allora ti chiedo Massimo, innanzitutto il tuo palmares parla da solo, ma ti aspettavi questa convocazione alle Olimpiadi? Guarda, essere sincero è un sogno che si avvera dopo un bel po', ho lavorato tanto, ho lavorato sia sotto l'aspetto tecnico che psicologico perché arrivare alle Olimpiadi è il massimo traguardo a cui uno sportivo, inteso non soltanto nel vero senso della parola, ma anche come giudice, è la massima ambizione ed è il traguardo ultimo, ma non ultimo, in senso temporaneo, al quale una persona possa aspirare. Me l'aspettavo, me l'aspettavo, sai, fino a che non c'è nero su bianco perché ho già subito sotto certi aspetti, forse un torto alle ultime Olimpiadi, ma il lavoro e la perseveranza questa volta mi ha premiato. Prima di andare alle Olimpiadi però sei venuto qui ad Ischia e non è la prima volta che arbitrerai il torneo Beachwater Polo Stars, ma non solo, anche quelli amatoriali. Allora dicci qualcosa sulla manifestazione che si svolgerà il prossimo week. Guarda, io credo che prima ancora di parlare della manifestazione bisogna innanzitutto ringraziare gli sponsor che fanno sì che questa manifestazione possa avere atto in questo scenario veramente meraviglioso dell'Isola di Ischia. Io sono ospite dell'Aragona Palace Hotel di cui il direttore Isidoro Di Meglio, splendida persona, ci offre tutti i comfort e voglio ringraziare anche Domenico e Francesco che sono veramente il cuore, il braccio e la mente di questa manifestazione. Non è la prima volta, ci vengo volentieri. Ho fatto anche delle rinunce perché sto arrivando adesso da una collegiale con la nazionale, lunedì ripartirò ancora con la nazionale e nel mezzo ci ho messo questo splendido scenario, questa splendida iniziativa che l'Isola di Ischia e tutti quelli che fanno parte di questo torneo fanno e contribuiscono per lo sviluppo della pallannuoto. Pallannuoto a mare, diciamolo pure perché di solito si gioca in piscina, pallannuoto che ricorda vecchi fasti e vecchi tempi ma che conserva il suo splendido cuore pulsante che è appunto di questo sport, l'acqua. A proposito di Ischia, come hai visto comunque la crescita di questo sport? Credo che negli ultimi anni anche questi tornei sono a mare, magari lontano dalla piscina, però ho visto anche un interessamento delle persone. Guarda, non solo interessamento delle persone, ma tu che sei stato con me in queste ultime edizioni ha visto un crescendo di agonismo e di livello tecnico che si innalza. Il torneo che ci sarà sabato appunto vedrà in acqua campioni già olimpici che con me chiaramente si arricchiranno forse di un altro olimpionico.